Buongiorno a tutti, sono Maria Giovanna Devetag, segretaria dell'Associazione Antispecista Parte in Causa e rappresentante del Comitato per un Circo senza Animali, formato dalle associazioni Parte in Causa, Coordinamento Antispecista e per Animali Averitas. Ci siamo costituite come comitato e siamo qui oggi in Campidoglio per lanciare una campagna contro i circhi con animali. La campagna consiste in una proposta di delibera di iniziativa popolare, il cui testo verrà depositato oggi negli uffici competenti del Comune e avremo tre mesi di tempo a partire da oggi per raccogliere le firme. Il testo della delibera consiste in un nuovo regolamento per i circhi che impiegano animali nel Comune di Roma e introduce il divieto di utilizzare alcune specie animali che sono state giudicate a rischio di estinzione o il cui modello gestionale è stato giudicato incompatibile con la detenzione nei circhi e il regolamento propone anche dei criteri più restrittivi per concedere l'attendamento. Il fine di questa delibera è di disincentivare le domande di attendamento di circhi che impiegano animali all'interno del territorio comunale e di rendere più efficaci i controlli. La campagna si chiama Liberi con una firma, il sito internet è www.libericonunafirma.org. A partire da domani saremo presenti in tutte le piazze e le strade di Roma per raccogliere le firme. È necessario raccogliere 5.000 firme valide affinché poi la delibera venga votata dall'Assemblea Capitolina. Quindi chiunque sia interessato al tema ci cerchi, cerchi i nostri banchetti di raccolta firme, vada sul sito per raccogliere informazioni, faccia conoscere la campagna e ci aiuti a raggiungere l'obiettivo di 5.000 firme valide per far sì che Roma dica no al circo con animali. Il sito è www.libericonunafirma.org.